Strategia e furtività nell'universo dei pirati. È su queste basi che si appoggia Shadow Gambit, nuova opera di Mimimi Games attesa nel corso del 2023 su PC, PlayStation e Xbox. Dopo lo straordinario successo di Shadow Tactics e dopo essersi misurati anche con la serie Desperados, gli sviluppatori tedeschi hanno deciso di cimentarsi con una versione fantastica del Mare dei Caraibi nella quale l'età dell'oro della pirateria va a braccetto con l'elemento sovrannaturale. La presentazione a porte chiuse a cui abbiamo avuto modo di assistere ha mostrato uno stealth strategico ambizioso e votato alla libertà e che non ha paura di scherzare con l'elemento sandbox. A partire dal 1550 la zona dei Caraibi è stata teatro di scorribande piratesche, grazie alle quali i nomi dei più temibili capitani di vascello hanno iniziato a fare il giro del mondo, spesso accostati a leggende e storie di fantasmi. Shadow Gambit intende abbracciare quell'atmosfera per poi mettere in scena una realtà alternativa in cui orde di pirati maledetti devono vedersela con l'Inquisizione, gruppo che combatte tutto ciò che non è umano. Nei mari in tempesta si nascondono infatti delle perle nere che hanno il potere di donare una vita oltre la morte a chiunque riesca a impossessarsene, caratteristica che le rende molto ambite. L'avventura orbita intorno alla Red Marley, un galeone pirata dotato di una propria anima e soprattutto alla ciurma che ne controlla il timone. Protagonista e principale avventuriera a bordo del vascello è Afia, una spadaccina capace di manipolare lo spazio e che può teletrasportarsi liberamente sul campo di battaglia prima di giustiziare chiunque le capiti a tiro. Accanto a lei brilla Mr. Mercury, uno scheletrico mozzo che può immergersi nel terreno per poi riemergere a distanza, capacità che lo rende il principale incursore dell'equipaggio. Infine troviamo Gael Lebris, un'artigliera che ha la possibilità di caricare nel suo cannone le guardie dell'inquisizione per spararle dove preferisce. Ad accompagnare il trio ci saranno altri cinque reietti del mare, per un totale di otto pirati, ciascuno dotato di un'identità, una storia e di una serie di abilità uniche. La libertà sembra essere il pilastro su cui si regge l'esperienza generale, è infatti il giocatore a decidere dove andare e in quale isola gettare l'ancora, aprendo a una struttura non lineare che prende le distanze dalle ultime fatiche dello studio. Sarà possibile sbloccare i membri della squadra nell'ordine che si preferisce, il ponte della Red Marley si trasformerà così in un hub utile a pianificare le prossime mosse e coltivare i rapporti con il resto della ciurma. A questo proposito, ciascuno dei pirati potrà inoltre contare su missioni volte ad ampliarne la caratterizzazione. Una libertà che si riflette anche nell'ambito delle missioni, se in passato si aveva la sensazione di dover individuare il preciso metodo immaginato dai designer per completare gli incarichi, qui i sviluppatori hanno optato per un approccio vicino all'ispirazione sandbox. Avremo la facoltà di scegliere dove attraccare con la scialuppa il punto da cui entrare nelle fortezze, da dove uscire, quali membri del team utilizzare e come sfruttare i loro poteri. Bilanciare otto diversi personaggi in un'esperienza tattica in tempo reale non sarà semplice, ma la grande varietà offerta dai livelli e la nuova verticalità delle mappe potrebbero contribuire ad equilibrare le cose. Le opere di Mimimi Games sono riflessive, esperienze in cui lo spionaggio è più importante del nudo assassino e la furtività vince sempre sul caos. Attraverso l'inquadratura isometrica è necessario leggere l'architettura delle mappe, memorizzare il comportamento delle guardie e giocare con il posizionamento degli incursori. In questo senso Shadow Gambit non sembra voler fare eccezione, anzi si spinge oltre. Se le precedenti produzioni erano limitate dall'immaginario storico di riferimento, la creazione di un universo originale e toccato dalla magia apre a dozzine di nuove opportunità riguardo le meccaniche di gioco. Per rendersi conto della straordinaria varietà di opzioni garantite dalla componente sovrannaturale, è sufficiente pensare al fatto che Afia può teletrasportarsi alle spalle delle guardie, mentre Mr. Mercury può distrarle sfruttando il suo pesce fantasma. Come se non bastasse, è presente anche un comodo sistema di riavvolgimento temporale, giustificato narrativamente dai poteri della nave Red Marley. In caso di fallimento è dunque possibile riavvolgere il nastro in qualsiasi momento, con gli stessi protagonisti che non mancheranno di commentare l'abuso di tale meccanica sfondando la quarta parete. Il Galeone offre anche la possibilità di congelare il tempo in una sorta di pausa tattica, così da mettere in coda una serie di azioni e consentire alla ciurma di agire simultaneamente per realizzare strategie altrimenti impossibili. Allo stesso modo si può anche velocizzare lo scorrere dei secondi abbattendo così i tempi morti. Lo stile artistico, vicino all'ispirazione di Blizzard, semplifica notevolmente la lettura delle mappe, che riescono a mantenere intatta la complessità tipica del genere pur risultando più chiare e pulite se paragonate a quelle di Shadow Tactics. Insomma, lo studio sembra aver lavorato sodo per aumentare l'accessibilità generale di un genere solitamente di nicchia, ma senza rinunciare all'esperienza tattica e riflessiva che ha sempre caratterizzato le sue opere. Tuttavia, il punto di forza più importante sembra risiedere proprio nella follia che ne tratteggia le meccaniche e che ha consentito agli sviluppatori di sperimentare tanto sul piano del gameplay quanto su quello dell'approccio al mondo di gioco. Oltre ad essere il primo titolo autopubblicato dallo studio, Shadow Gambit mira ad evolvere la formula per trasportarla in direzioni inedite, inseguendo una libertà notoriamente difficile da mettere in scena in prodotti del genere. Resta da vedere se l'immaginario che mescola pirati e magia saprà attrarre il pubblico come hanno fatto quelli che caratterizzavano le precedenti opere del team, ma sul fronte del gameplay le premesse sono veramente ottime. La software house tedesca ha deciso di correre diversi rischi, insomma, ma in questo momento storico sono pochissimi gli studi che possono vantare la medesima esperienza nel campo della tattica in tempo reale. Senza contare che, da giocatori, fa sempre piacere incontrare di nuovo vecchie derive che si pensavano scomparse, e da questo punto di vista Mimimi Games è già riuscita a compiere un mezzo miracolo. La più grande sfida del titolo sarà senza dubbio quella di sfondare ulteriormente il confine della sua nicchia, traghettando l'antica eredità di Commandos anche nella nuova generazione di videogiochi. Stando a ciò che abbiamo visto, Shadow Gambit mira a condurre nel futuro le fondamenta gettate da Shadow Tactics e Desperados 3. Spezzate le catene della fedeltà storica, Mimimi Games potrà finalmente esagerare sul fronte delle meccaniche, mettendo in scena personaggi e abilità a dir poco folli. L'opera promette tantissima libertà e un approccio alle missioni al limite del sandbox, spingendo sul versante dell'accessibilità generale e consentendo agli appassionati di costruire tattiche uniche e personali. Ovviamente la profondità dell'esperienza è ancora tutta da valutare, ma le premesse al momento ci lasciano davvero ben sperare. E voi? Cosa vi aspettate da Shadow Gambit? Infilate la benda e diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su sito, social e ovviamente qui su YouTube. Ecco alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie e alla prossima!